Il post presentato dal commissario ad acta penalizza fortemente Isernia. La chiusura di emodinamica mette a repentaglio la salute stessa dei cittadini. È dunque necessario che il Consiglio Comunale di Isernia sia protagonista di una levata di scudi per difendere gli interessi della collettività. Questo in sintesi il pensiero di Domenico Chiacchiari, attuale consigliere di minoranza e già assessore al Comune di Isernia. Come è stato presentato, prevede la chiusura del reparto di emodinamica all'ospedale di Isernia. Ritengo che sia veramente un fatto gravissimo. Il Presidente Toma è stato in Consiglio Comunale, convocato dalle minoranze, dove il ragionamento fatto dal Presidente era tutt'altra cosa. Presentato questo posto al Ministero, come ogni volta che viene presentato questo documento, l'ospedale di Isernia ne paga le conseguenze. Diciamo che ora, fra qualche anno, l'ospedale di Isernia diventerà una buona guardia medica se si continua così. Quindi assolutamente dobbiamo iniziare a pensare, al di là del colore politico, di iniziare questa battaglia e difendere seriamente il nostro ospedale. Perché toccare questo reparto significa veramente mettere a rischio la vita dei cittadini di Isernia, ma dell'intera provincia di Isernia. A tal proposito chiederò anche al Sindaco quelle saranno le intenzioni della maggioranza, per quanto riguarda un'iniziativa importante che possa poi cercare di risolvere la questione. Lui è molto bravo a fare ricorso, è stato il primo a fare ricorso sull'Otto Zero, Altar, e se ha intenzione ora di rivolgersi di nuovo Altar e fare ricorso su questa questione, dico al Sindaco che avrà anche il mio appoggio e la mia firma sul documento che intende presentare. La delegazione parlamentare aveva invitato gli amministratori locali ad evitare fughe in avanti per un lavoro sinergico tra il territorio e i suoi rappresentanti romani in materia di sanità. Chiacchiari è però di tutt'altro avviso. Ma io penso che ragionare su questo tema le fughe in avanti fanno bene e ce ne saranno sempre da parte mia. Perché tenere un'attenzione, tenere accesa una situazione del genere su un argomento così importante non c'è colore politico e non c'è nessuna questione di fughe in avanti. Io spero che il governo si possa insediare più presto, dopodiché convocheremo i deputati in Consiglio Comunale per discutere di questa faccenda che ha veramente dell'ingredibile.